Udo, parto anche ricollegandomi a quello che diceva il mister, innanzitutto ti faccio gli auguri perché è il tuo compleanno, quanto ti è dispiaciuto non riuscire a bagnarlo con il tuo primo gol in Serie A che avrebbe dato una vittoria che poi era importante anche per i tifosi, per il compleanno dell'Udinese? Sì, grazie mille, c'è tanto dispiacere perché ci teniamo a vincere e come hai detto te, col mio gol sei stato ancora più bello per me, però va bene, guardiamo avanti. Ecco, andiamo avanti, tu ti stai conquistando sempre maggiore spazio, dal primo momento che sei arrivato stai imponendo le tue qualità, ti chiedo anche con questo cambio d'assetto che abbiamo visto giocare in corso, difesa 3, difesa 4, tu fai sempre bene, sei sempre tra i più positivi, ti trovi bene in entrambi i moduli? Sì, in entrambi i moduli vanno bene, cerco di essere sempre disponibile, fare il meglio e a 4 anche mi trovo bene e spero di continuare a fare bene. Cosa è mancato oggi secondo te, a parte il gol, per conquistare una vittoria che avrebbe reso felici tutti? Penso sia mancato un po' di fortuna e anche un po' di cattiveria davanti nel fare gol, nel chiudere la partita, nel vincere, però ci stiamo lavorando e penso presto arriveranno tante soddisfazioni.